Pesce importato da Spagna, Francia e Grecia, nella migliore delle ipotesi della Sicilia, prezzi alle stelle e conseguenze sul patrimonio di ristoratori e clienti. Il caro gasolio che sta bloccando i pescatori si ripercuote anche sui porti della Bat, con le barche della sesta provincia pugliese, ferme ormai da settimane, è un danno economico sempre più asfissiante. Se ci voltiamo verso il mare tutto è fermo, non si sta lavorando, quindi non c'è retribuzione, perché in questo settore resta l'unico dove un ammortizzatore sociale non c'è, anche per volontà che non è dell'armatore, perché il caro gasolio purtroppo è un problema a questo punto mondiale, quindi stiamo chiedendo come prima misura l'abbassamento del costo che permette la navigazione, altrimenti si cambierà mestiere. Il deperimento dei mezzi si somma al mancato incasso per la vendita del pescato per un crollo complessivo degli introiti per migliaia di euro. Il carburante ha toccato e in certi casi superato la soglia di un euro al litro, ma andando sull'astrico attività e famiglie. Abbiamo la sensazione che in questa settimana in qualche modo si prenderanno delle decisioni che sono fondamentali. Come fondamentale il nostro stato di agitazione, manifestazione che si voglia, perché mai come in questo momento avvertiamo una difficoltà totale. Le autorità politiche si sono riunite in videoconferenza per cercare una soluzione nell'arco dei prossimi giorni. La crisi mette con le spalle al muro i pescatori in protesta presso il porto di Barletta e non solo. Le disponibilità economiche dei lavoratori sono ormai agli sgoccioli. Ma qui è già un fatto di due o tre mesi che non si guadagna niente per il caro gasolio. Non è un fatto di adesso, due settimane. E tu fai il conto, tu due o tre mesi fermo una barca. Qui la famiglia ha pure il diritto di un sostegno economico. Questo è il discorso. Noi stiamo fermi. Cosa dobbiamo fare? Io sto fermo da due mesi. Io sto fermo da due mesi. E non è giusto. Quando il costo della nafta mi è arrivato a un euro, basta, fermo.